90 minuti giocati Diego Armando Maradona 90 minuti giocati però un po' stanco, ho 53 anni sei l'eroe della serata e ancora sempre diciamo il numero 10 proprio sì soltanto che Icardi non doveva giocare comunque quello che ha fatto le squadre mi avevano promesso che Icardi non giocava ha giocato per quello sono incastato un po' di polemica e non sarebbe Diego senza un filo di polemica